Musica Un raggio di luce del tuyato, diverso e profonda preghiera al suo cuore, si aprono i cieli soltanto per lei, e accolta la Vergine Madre nell'eternità. E da quel giorno per sempre sarà, Regina del cielo e stella del mare, un cuore di madre che batte per noi, ripresa il consiglio dei figli suoi, è nostro rifugio, è nostra speranza, Le ali che portano il cuore dell'uomo, al cuore di Dio. Musica 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 Musica